Parcheggi pieni e gallerie affollate, il panorama del pomeriggio e domenicale negli ipermercati anticipa un bilancio piuttosto positivo e i clienti confermano. In giro per i saldi? Sì. Convenienti qui? Qua abbiamo trovato cose convenienti, sì. Sì, abbastanza convenienti. Che cosa hai comprato? Ho comprato tre pantaloncini e due magliette. Un vestitino da Zara, 16 euro. E poi un paio di Converse. È una scelta fare questo tipo di acquisti nell'ipermercato rispetto al centro cittadino oppure indifferente? A parte il discorso del caldo, che almeno nel centro commerciale ci si rinfresca un po'. È da parecchio che non andiamo in centro, stanno tutti qua i negozi. Ma gli iper non affidano la loro forza attrattiva solo all'aria condizionata. Ad Oshan hanno puntato sul bacio, per chi non lo sapesse, ieri era la giornata mondiale. Siete qui all'ipermercato per i saldi o per il bacio? No, soprattutto per i saldi. Noi ce li siamo dati i baci. E si vede. Ora non ho più fiato. Un bacio, un pietro non bacio. Solo uno fa. Solo uno. Baci e selfie anche a Bari Blu, dove a far sognare la metà di una coppia amatissima. Il ballerino Stefano De Martino, marito di Belen. Quanto è difficile essere Stefano De Martino? Ci sono cose molto più difficili. Il marito di Belen? Ci sono cose molto più difficili. Come dargli torto. I baci poi pare facciano bene anche gli affari. Abbiamo avuto delle ottimi risultate, effettivamente la gente stava aspettando il saldo.